Oggi carciofi ripieni alla siciliana, i caguaccele, pangrattato, acciughe, prezzemolo tritato, carciocavallo grattugiato, un uovo, pancino, un pizzico di sale, poco perché abbiamo messo le acciughe, se vi ci piace potete aggiungere anche un pochino di aio tritato, filo d'olio ed amalgamiamo. Consistenza finale. Priviamo i carciofi del gambo, laviamoli bene e poi sbattiamoli così per allargare le foglie. Adesso ci armiamo di pazienza e iniziamo a riempire fra tutte le foglioline partendo dalle pia esterne arrivando man mano in centro. Mi piace la mia coroncina ripiena? Adesso in pentola con un filo d'olio e un bicchiere d'acqua copriamo e lasciamo cuocere a fiamma bassa per un'ora e mezzo controllando di tanto in tanto che non serve altra acqua. Ecco qua il mio bestione dopo un'ora e mezzo di cottura. Se volete potete anche utilizzare la pentola a pressione, in tal caso vi basteranno 20 minuti dal momento del fischio. Buon appetito!